Anche in Serie D continua ad esserci grande fermento intorno alle società abruzzesi, tra chi cerca nuove risorse, chi cerca di allargare la base societaria, chi una cessione totale delle quote a nuovi acquirenti. Ora però il tempo inizia a stringere e nella settimana che andrà tra l'8 e il 15 luglio andranno formalizzate le iscrizioni al campionato col pagamento di 16.000 euro più fideiussione dell'importo di 31.000 euro. Ha del clamoroso quanto accaduto sull'asse notaresco Giulianova. Solo domenica scorso un comunicato del sindaco di Notaresco Diego di Buonaventura nel ringraziare il presidente Salvatore Di Giovanni per i quattro anni di calcio fatti nel comune del Momano annunciava l'accordo di uno scambio di titoli con Giulianova, col club Gelo Rosso in Serie D e il Notaresco, con l'uscita di scena dello stesso Di Giovanni e dei dirigenti Luigi Di Battista e Diego Ferrante, pronto a ripartire da una meno dispendiosa eccellenza. Ieri sera il colpo di scena, non del tutto inaspettato alla luce dei rumors delle precedenti 48 ore. Questa volta il comunicato è a firma ASD Giulianova Calcio, dove si fa riferimento all'esito negativo della trattativa per questioni contabili non afferenti al Giulianova Calcio e soprattutto quando sono mutati gli interlocutori. Resta ora da capire cosa accadrà. Il Notaresco si iscriverà lo stesso alla Serie D, rischiando una stagione simil nereto di quest'anno? Ci sono margini per riprendere una trattativa con il Giulianova, magari con una fusione che porterebbe però alla sparizione di uno dei due titoli? Altre due piazze calcistiche importanti vivono ore piene di interrogativi. Chieti e Vasto. A Chieti mancano sviluppi ufficiali dopo il comunicato di fine maggio del patron Giulio Trevisan e del presidente Antonio Mergiotti. Non sono mancate iniziative anche del Comune per cercare di coagulare forze imprenditoriali cittadine, ma al momento non si è arrivati al dunque. Negli ultimi giorni l'ex DS teatino Mauro Traini si è fatto avanti ed è frontman di un paio di imprenditori romani interessati a fare calcio a Chieti e che attendono di incontrare il patron Trevisan. A Vasto trattativa in corso e in uno stato avanzato, ma non ancora chiusa, tra Attilio Di Stefano, imprenditore originario di Cupello, ex presidente della Civitanovese, e l'attuale proprietà. Tanti gli incontri che si sono susseguiti in questo inizio di settimana tra lo stesso Di Stefano e i co-presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta e i legali delle due parti. Si cerca la quadra per la fumata bianca. Nell'organigramma resterebbe il vicepresidente e massimo responsabile del settore giovanile, Luigi Salvatorelli, tra i fautori dell'interoperazione. Situazioni di relativa tranquillità in casa della neopromossa Avezzano e ancora di più a Pineto, dove la presenza di un presidente di rara solidità come Silvio Brocco rende tutto più semplice in termini di pianificazione. Al di là di questi fronti aperti non sono esclusi altri colpi di scena da monitorare le situazioni Teramo e L'Aquila. Una eventuale mancata iscrizione del club bianco-rosso in C potrebbe aprire spiraglie ad una procedura che farebbe ripartire il Teramo dalla Serie D. L'Aquila, con l'ingresso di Di Giovanni, punta sia a vincere il campionato di eccellenza, ma presenterà anche domanda di ripescaggio in D. E con tutte queste incognite, anche in casa San Benedettese, nelle vicine Marche, le acque sembrano agitate, chissà che un posto non possa liberarsi davvero.